Era stato rubato oltre 60 anni fa un raro manuale del Settecento ed adesso è stato ritrovato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, grazie ad un'operazione coordinata dalle procure di Arezzo e Pordenone. Il prezioso volume era stato infatti trafugato nel 1958 dal convento di Sant'Antonio di Viareggio, la cui biblioteca era stata trasferita dalla cittadina della Versilia al convento di San Francesco a Firenze. Nell'ottobre 2019 poi il trattato su come vivere bene, datato 1756, era stato notato dai militari sulla piattaforma Marketplace di Facebook proposto in vendita da un commerciante aretino. Il libro è stato subito riconosciuto dai frati del convento di Viareggio e dal personale dell'Ordine dei Francescani Minori di Firenze, portando così alla perquisizione dell'abitazione dell'antiquario aretino e di una persona di Maniago in provincia di Pordenone che nel frattempo lo aveva acquistato. Entrambi sono finiti nel registro degli indagati, il prezioso volume ritrovato a casa dell'acquirente invece è stato riconsegnato nelle mani dei frati.